vediamo invece subito qual è lo strumento che useremo per lavorare con il database provate a vedere su questo pc disco locale c ecco vedete vedete che c'è stamp aprite c'è un sacco di roba qua dentro dovete andare a aprire questo stamp control dove c'è quest'icona qua arancione doppio clic adesso si aprirà un pannello questo pannello qui lo vedete allora questo pannello vi permette di avviare dei servizi del server a noi interessano due server il primo e il secondo il primo server apaci è un web server e il secondo è il database server my secret quindi cosa fate cliccate su start e aspettate aspettate che compaiano i numeri sia nella colonna feed process id sia nella colonna port sapete che cos'è una porta e che cos'è un feed quando viene mandato un programma in esecuzione questo programma può generare uno o più processi ecco allora ogni processo generato ha un suo identificatore univoco numerico quindi questi sono gli identificatori numerici dei processi generati dalle due applicazioni le porte sono delle porte logiche a che cosa servono voi sapete almeno spero che sappiate che ogni macchina su internet è identificata da un indirizzo IP l'indirizzo IP è un indirizzo logico che identifica il computer però su quel computer possono girare diversi servizi o server per esempio su questa macchina adesso sono in esecuzione il server web e il server di database quindi nel caso in cui io volessi andare a fare una richiesta a uno di questi due server non basta specificare l'indirizzo IP bisogna dirgli se io voglio chiedere un servizio al web server o al database server quindi questi sono i numeri di porte logiche quindi non fisiche che permettono di fare una richiesta precisamente ad un servizio che si trova in esecuzione su una certa macchina con certi indirizzi IP infatti gli indirizzi che si usano a livello di trasporto non a livello netto sono i socket formati da indirizzi IP due punti seguito dal numero di porta logica adesso per poter accedere al pannello di amministrazione del database clicco su admin in corrispondenza di MySQL poi aspetto pazientemente che si apra tutto quanto comunque questa è l'interfaccia grafica che permette di interagire con i server perché il server di suo non ha mai un'interfaccia grafica, non è un programma che ha una sua interfaccia grafica quindi vengono creati degli altri programmi che permettono di interfacciarsi in maniera un po' più frenzi se no bisogna scrivere tuttoria di comando e qui poi noi lavoreremo appunto per creare le tabelle dei database per andare a scrivere le istruzioni in linguaggio SQL, vedere i risultati eccetera eccetera stavo dicendo basta andare a cercare XAMPP con due P finali XAMPP installers e download quindi c'è per tutti scaricate questa roba qua si installa grazie a tutti